Sottoscritto oggi a Lanciano l'acquisto per tre nuovi convogli di Tua, per un valore complessivo di 34 milioni di euro. Convogli altamente tecnologici a bordo dei quali sarà possibile anche effettuare, qualora ce ne fosse bisogno, la defibrillazione. Infatti ogni veicolo è dotato di defibrillatore. I treni elettrici e la segnaletica fanno riferimento ad accordi con un partner per noi storico, che è un player più grande forse al mondo, come accennava l'ingegner Viale, probabilmente saranno anche traslate nel tempo perché loro si occupano anche di idrogeno e noi abbiamo ricevuto ulteriori 35 milioni di finanziamento per i treni ad idrogeno e naturalmente questo ci pone all'avanguardia in termini Grimm, 35 milioni per i treni, 8 milioni per quello che riguarda nuove tecnologie informatiche e poi tutta una serie di interventi come quello che abbiamo presentato questa mattina che fa riferimento alla sicurezza, che è la scelta di dotare i treni che abbiamo già a disposizione di defibrillatori per intervenire con immediatezza e con sicurezza per quello che riguarda ipotesi di impatti cardiologici sui treni abruzzesi. I treni nuovi POP 2.0 Corradia Stream hanno 305 posti a sedere e 534 in totale con i posti in piedi. Un investimento per quasi 16 milioni di euro riguarda anche i lavori di progettazione esecutiva e di realizzazione di un impianto di segnalamento e di sicurezza sulle tratte Lanciano-Sanvito e Fossa-Cessi a Torin di Sangro-Archi. Questi impianti permettono di uniformare le stesse agli standard in uso sulle infrastrutture nazionali. I tempi di realizzazione sono di circa 18 mesi. I treni sono super accessoriati di tutta una serie di nuove opzioni che vengono offerte ai cittadini abruzzesi, tengono anche riferimento per quello che riguardano portatori di handicap e che si modula in maniera importante col sistema di tracciamento, un sistema di segnalazione e tracciamento che noi abbiamo in qualche misura opzionato nel 2019 quando nessuno in Italia aveva sostanzialmente fatto questa scelta. Siamo stati antesignani in questo senso e subito dopo di noi sono venuti anche player importanti come RFI che ha scelto lo stesso sistema.